Stiamo per iniziare. Sai che puntata è? 4,97. Bravo. Sai che cosa faremo? No, pensavo fosse il civico. No, è il numero della puntata. Aspita. Vogliamo invitare tutti a seguirci? Ma certo. Fallo tu. Allora invitiamo tutti a seguire lei e lui perché faremo una grande... che faremo? Faremo tanta musica. Faremo tanta musica. Ci divertiremo. Ci divertiremo. E ci sarà anche tanta comicità. E tanta comicità. Ah, c'è anche il mago. Pure il mago. Sì, ci sono anche le ragazze per la sfilata. Le ragazze. Sì, c'è il nostro editore. Non manca nessuno. No. Non mancate neanche voi, naturalmente. E allora? Sigla. 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 Sigla.